bella a tutti ragazzi benvenuti a questo mio nuovo video, sono di Giovenna e attenziamo il quarto numero di Pesco del 2010. Allora come stai faccio la mitravo leggenda ed eccola qui tra Real Madrid e Porto, Real Madrid e Porto, la mitievole sarà, affendiamo Bernabeu, vediamo la seconda squadra dopo qualcosa con Benzema, facciamo il giocatore e poi andiamo, non facciamo vedere questo perché prendiamo tempo, prendiamo tempo, allora, sarà una partita molto bella, la mitiavole leggenda, tra Real Madrid e Porto, vediamo, il caricamento è in cosco, vediamo il caricamento, siamo al Santiago Bernabeu, allora il Santiago Bernabeu si gioca Real Madrid il porto, Real Madrid in casa, subito in casa Real Madrid, vediamo, mentre va comincia davanti, cererezza, recupera subito Faria, il porto che batte bene, scusione Albiolo, di Arra, caccato la fascia, scusione numero su Fernando, Galante dentro l'aria, parto destro, Rete, Real Madrid che va in vantaggio, Galante, ecco la sostanza, Real Madrid in vantaggio, in vantaggio Real, subito Galante che segna, con il last, non segna, voglio dire, non segna, Raul Bermè i theyvane, scusione, un vantaggio, general Madrid dal quarto minuto, Shabialondo, Sergio Ramos, Mèzemà, Mèzemà al volo, parata di Elton, inviare Elton, Farias, recupera di Elton, Shabialondo, C'è il cacacà, lo trova L'altra parte del cacacà era un cambio sfonda Ramos Dalante di testa, attenzione, alta Qui azione pericolosa perché Se io ramos, ecco la propria dalante Anzi che sta lì indietro La palla è alta un pochino su una traversa La azione è pericolosa qui Andiamo Dalante, ancora numero sul Rolando Destro, palla fuori Un'iniezione però Perciò di inviare Elton Benzema Andiamo andando per il davanti E contrasta Bruno Alves A fine palla Fernando Belluschi Ecco Mariano Gonzale Raul Meirees Ronaldo Siamo al quindicesimo Non è, recupera Pepe Benzema Benzema quando sta a fare Benzema E fa regalante Ronaldo Regalante dentro l'aria E parate di Elton Sì Adesso non ce la para Pereira Meirees Recupera Benzema Perce palla Per ora recupera di nuovo Benzema Per stare finse ma Recupera il Meirees Fernando Bruno Alves Pereira Il forte tiene palla Hulk Hulk Meirees Recupera però Benzema Kakà Messione Ronaldo Mantenavanti Fare a prima Recuperare Quei abbioti Attacca il Man Il Real Se andate con il dentro Fuori aria E c'è la parata di Elton Però Che vi invia Benzema Può il gioco per Benzema Il gioco per Benzema Di Arra Benzema Ancora sotto di pezzo Domenica Benzema Attenzione Fernando Recupera Di Arra Così non è di Arra Ci può provare Da lontano Ci prova Palla altra Sopra la traversa Andi di Arra Siamo Belluschi Palla per lui Belluschi perde palla La recupera però Benzema Benzema Di Arra Di Arra Di Arra Tanto incontro che Il proprio passo Di Arra Di Arra Benzema Detro la varia Reste Però era fuori gioco Quindi Cosa non è un'altra Benzema Bene Faria Benzema Da lontano Fuori aria Benzema Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Numere dentro l'area Porta Sinistro Reste Cristiano Ronaldo Il 2-0 Il Real Bellissimo Il Real Madrid Il grande Cristiano Ronaldo Benzema Grandissimo Fernando E' un'altra Benzema 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 Cerca Cristiano Ronaldo Ancora Ma Ci vado la Bruno Alves Si poi la mette Il pallo laterale Bruno Alves Un pallo laterale Cristiano Ronaldo Cerco il numero Il numero di mezzo a tre Un'altra 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 nel porto a dentro e certo la mette in calcio l'angolo la mette in aria la mette in aria la mette in aria al 42esimo 42esimo ci ha un ronaldo numeri mi fermo un minuto di ci ha un ronaldo la mette in avanti ci ha un ronaldo lo finisce porta a dentro palo poi c'è il galante poi l'altra parte numeri porta a dentro ed è lì ancora la palla fuori aria a cacà fuori aria per il galante recupera il veloa sessione però perde palla perera ecco il posto bellussi perde palo subito per al veloa c'è il real madrid il veloa numero al veloa la palla saponaro e finisce il primo tempo 2 a 0 per il real il gollo è il galante Cristiano Ronaldo andiamo al secondo tempo andiamo al secondo tempo il secondo tempo Farias non ha battuto il calcio all'inizio bellussi Fernando quanto più ha battuto il calcio all'inizio Bruno Cristiano Ronaldo attenzione che rigionavano si che pronto mi si compro perera ma perera lo volta Cristiano Ronaldo leva la palla a perera grandissimo Cristiano Ronaldo però in lotta una volta con un'inizio su due ulti repuper attenzione giocatore 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 giovani attacco ulti mezzo ed è il far albiol benzo della palla proprio Cristiano Ronaldo che è firmato la palla perera Bruno Alves Fernando rolando saponaro non vale sarebbe una mani per Berluschi Berluschi ci vado l'albiol mi chiamo mi chiamo Ronaldo mi chiamo Ronaldo Ronaldo dentro l'aria sono le finte di chi c'è Ronaldo dentro e devi andare in caccia d'angolo andiamo bacio il caccia dalante per arrivo a Benoit destro altissimo andiamo Elton il cimona sedesimo ce l'ha rimessa per l'entrata il cimona sette di Arra c'è i numeri, ecco lo trova Bezzaro e lui c'è caccaca, lo trova c'è cacca che faccia la montavano e c'è Elton che recupera e c'è Elton che recupera visione Mereles fumo Albez Mereles pallo di Benzema la pressione missione solo senza cartellini Albez batte aria a sezione al viol per Benzema Benzema Davanti da fuoriare Benzema e alza la palla ecco ci sarà un cambio per il Real Madrid fuori Benzema dentro Miguel no andiamo anzi siccome non avendo attaccato in macchina non avendo attaccato in macchina perché non ce l'ho dimenticato tutti fuori Benzema resterà in campo sceglia l'onzo guarda sceglia l'onzo sto poi dentro il cappetto dentro l'ontano e adesso che che para andiamo a mettermi che rinvia con le mani sessanta seiesimo che è entrato sessanta sessai uno Benzema Benzema dentro l'aria Benzema si è già fatto un gol però è stato annullato però comunque costa entra il supernante per il porto alvelo calcio d'angolo diarra 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 e ecco salva non fa andare non fa non dà il calcio d'angolo al Real sapunaro con dalle si è attaccato davvero lì che recupera poi c'è cacca ancora contro sapunaro il dalle sbaglia e l'è rimesso per il real cambia per il porto ancora cioè dentro Franky Warin fuori come ho detto Warin fuori mi sembra c'era Belluschi fuori anzi no è una voce che è uscito dopo 30 Warin comunque è entrato Warin Rolando recupera il veloa sessione al veloa al limite al veloa numeri dal veloa sessione si va a levare palla al viol lancia per Galante Galante sto fallendo fuori aria si coordina parte dentro è alta un gol segnato oggi siamo Warin non va a toccare di Arama di Arosa ne va con un numero manda la palla nella parte di Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo parte dentro la monta una bomba alza non di molto però diventano tentativi di Cristiano Ronaldo un altro cambio per il porto vediamo che entra entra Rodríguez fuori di me siamo all'ottandesimo e otto scosta recupera però c'è Bialonzo Galante sessione Galante numero Benzema è spinta di Erton c'è Bialonzo però recupera anti-spot Gnosex c'è Bialonzo e poi scosta al limite dell'aria del porto c'è Bialonzo recupera la metà serie per il volo Erton si finge fuori dalla palla si seguivano sti che la viene in campo il Galante la palla a recuperare Rolando giusto Rolando saponaro il Galante subito numero dentro Erton la ricalmatrice che conduce 2-0 con l'olio di Galante di Cristiano Ronaldo di Cristiano Ronaldo al velo recupera la sessione una rimessa all'ottantesimo nel Real al 69 se l'entrato costa 2 minuti di recupero siamo al 90 2 minuti di recupero Gnosex c'è il numero Cacca siamo Cacca vediamo Cristiano Ronaldo prova a chiudere con un tiro e le Ramo nelle vende stacco per Ramo ci abbiamo un soldetto però c'era fuori gioco siamo qui al limite andiamo il recupero sta finendo e la partita è finita 2-0 per il Real si vince la Michele di Centio il Galante al terzo minuto al trena tresimo Cristiano Ronaldo questo qui e siamo al me e così la partita finisce comunque spero di concludere qui ragazzi mi piace il video se non vi è rotto se non vi è inscritto scrivetemi ci vediamo il video di video